Mi consiglio di dare la parola ora Michele Zanotto, segretario nazionale della FIMCISL a cui chiedo di intervenire. A parte della oggi si è parlato molto di lavoro, di innovazione tecnologica, della permeabilità e dell'impegno delle imprese e delle istituzioni. Molto spesso ci si dimentica che quando si parla di imprese si parla delle persone che dentro le imprese si lavorano. Le imprese sono in grado di cogliere tutte le opportunità che la tecnologia dà nella misura in cui hanno la capacità di far crescere non solo gli investimenti, gli strumenti, i macchinari, i software ma proprio in persone. E quello che avviene e che va tenuto in considerazione è che le tecnologie che sono necessarie oggi per i salti tecnologici hanno una grande differenza rispetto al passato. Sono tecnologie disponibili a livello globale. Oggi la competizione di chi è avanti non può pensare di avere dei vantaggi competitivi di essere arrivati per primi. Oggi quello che si è in grado di imparare nel nostro paese si è in grado di impararlo dovunque. E questo è uno dei dati che conferma quello che anche stamattina si diceva. I paesi che hanno investito in anticipo sullo sviluppo non solo industriale ma anche sociale delle competenze sono quelli che sono più avanti. È vero quello che si diceva, il ventiquattresimo paese per investimenti. Se andiamo a vedere però l'analisi sull'alfabetismo digitale, l'Italia nell'ultimo studio che è stato fatto è ventinovesima superata da Estonia, Lettonia, Corea, Repubblica Cecchia, Repubblica Slovacca. Dietro di noi abbiamo solo Turchia e Cile. Questo ci porta a porre il problema dall'altro versante. Se si vogliono le tecnologie serve, così come succede per gli investimenti, il background per poterle sviluppare. Se da questa ricerca emerge che solo il 21% dei cittadini italiani tra i 16 e i 65 anni ha una buona competenza digitale anche qui il rischio è che diamo una Ferrari a uno che non è in grado di guidare. Allora i processi vanno accompagnati entrambi. La quarta rivoluzione industriale ha questo come elemento di novità importante. sa il fatto che non ho più un mezzo di produzione, è un fattore di competitività. E questo ce l'hai o non ce l'hai? Ma questo è valido, se non ce l'hai sei fuori. E questo non è valido, ripeto, solo per le imprese. Da sindacalista dico che vale anche per i lavoratori. Il lavoratore che non ha la possibilità di avere queste competenze è fuori dal processo non solo di occupazione e di occupabilità, ma anche dentro un processo di revisione delle proprie capacità. La permeabilità dentro i processi produttivi che hanno queste tecnologie cambia completamente la velocità con cui questa entra. Cambia completamente, ridisegna il luogo di lavoro, la fabbrica, l'attività che si fa. L'ICT che è uno degli ambiti che cresce maggiormente nel nostro paese, cresce talmente bene e talmente velocemente che è arrivato a raggiungere alcune delle distorsioni che già esistono nel nostro paese su altri settori del manufatturiero tradizionale. Dentro l'ICT ci sono già i manovali dell'ICT. Cioè il mondo dell'ICT non è fatto solo perché si chiama ICT di tutti i geni. Molte delle attività che vengono richieste, molte aziende, anche grandi aziende, fanno attività di body rental. Non fanno attività di ricerca, sviluppo, fanno body rental. E lì si agisce nel costo del lavoro. Vi porto delle esperienze personali, l'ICT legato alla sanità di un'importante azienda che poi venduta, acquisita da una società francese, questa azienda era di Bologna. L'azienda è andata in crisi quando le attività di digitalizzazione nell'ambito sanitario avevano il valore di 400 euro all'ora quando si dava l'attività e si faceva la formazione, a un certo punto questa si è dimezzata. Ma dal dimezzato oggi abbiamo attività nel comparto industriale metallo-meccanico. Lavoratori dell'ICT che sono venduti, ma anche nelle gare compsip, tanto per dirne, ha un valore economico poco superiore di un saldatore. Un saldatore in fincantieri, nella cantieristica o nell'impiantistica, viaggia intorno ai 23-24-26 euro all'ora, non il lavoratore che prende i soldi, il costo dell'appalto. Nell'ICT siamo arrivati in alcuni casi a 38 euro all'ora. Per cui stiamo parlando di aree di questa tecnologia che sono esposte addirittura alla competizione internazionale. Perché il fatto di non avere una frontiera fisica, provate a pensare tutti i call center, provate a pensare la gestione dei conti correnti delle banche, ormai si superano i confini del nostro paese, non c'è più la filiale fisica. Quindi anche qui il ritardo che c'è nell'acquisizione di competenze, nell'alfabetizzazione digitale dell'intero paese, per il quale servirebbe un nuovo patto costituente per l'alfabetizzazione digitale, non solo a fini di rilancio industriale, ma come successe nel dopoguerra, per dare le fondamenta a tutti, per poter essere cittadini, per poter essere parte integrante di una società. Tutto questo dovrebbe essere fatto dalle istituzioni, alle quali magari si guarda un po' troppo alla gestione, va benissimo, della pubblica amministrazione, legata agli sprechi e ai servizi, però è inutile mettere a disposizione, io penso, degli strumenti digitali se ci sono persone che fanno fatica poi ad usarle. Perché se i numeri sono veri, i numeri sono questi, non sono numeri del sindacato, come capite. Va benissimo spingere a fianco, anche la scuola deve cominciare probabilmente a porsi delle domande, non intendo la scuola, dico complessivamente il percorso della formazione. Noi dobbiamo pensare che in questo paese non è vero che c'è mancanza, scusate, che i cervelli scappano. Perché nel mondo dell'ICT, per le aziende che seguo, essendo un settore che seguo a livello nazionale, vi assicuro che c'è una ricerca di persone spasmodica. Le aziende hanno il 20% di turnover all'anno, le aziende dell'informatica. Significa che in 5 anni cambiano il 100% degli occupati. Ci sono richieste impressionanti. Il problema è che ci dobbiamo porre la domanda del perché. Probabilmente dovremmo immaginare che se in Germania si sfornano 900.000 studenti che escono dagli istituti tecnici all'anno e in Italia 9.000, qualche problema c'è. Probabilmente quei pochi che escono se li rubano a vicenda. Se immaginiamo che oggi il 60% dei giovani che sono alle scuole elementari e alle scuole medie faranno un lavoro che oggi non esiste, probabilmente ci dovremmo porre la domanda di come deve essere focalizzata l'istruzione. Noi come metalmeccanici abbiamo cercato di farlo. Noi nel nostro contratto del 2016 abbiamo inserito una cosa che non c'è, il diritto che non c'era, il diritto soggettivo alla formazione. Il lavoratore ha il sacrosanto diritto, è ancora un polviscolo cosmico rispetto alla Germania perché in Germania sono 100 ore all'anno. Noi ne abbiamo messe 24 nel triennio e se fosse vero, e per questo io chiedo davvero che ci crediamo assieme, ma se fosse vero che questo bisogno è sentito dalle imprese le avrebbero dovute bruciare quelle 24 ore di diritto soggettivo. L'effetto vero è che invece solamente il 20% delle aziende ha usato o ha messo a disposizione o il lavoratore ha richiesto, perché c'è anche il limite di chi magari non sa di poter avere questo diritto, solo il 20% ha usato le 24 ore di diritto soggettivo. Noi pensiamo che vogliamo rilanciare, non insistere, di più rilanciare, continuare anche nella piattaforma che abbiamo presentato su questo ed alzare il tiro, perché riteniamo fondamentale che si passi anche non solo al diritto soggettivo alla formazione, ma alla certificazione delle competenze, perché questo serve a creare quello che dite voi un grande registro attraverso i big data per poter capire quali sono le professionalità che abbiamo per andare a colmare i gap o per attirare dove serve gli investimenti necessari per lanciare il Paese. Il sindacato è pronto, chiediamo davvero assieme ad aziende, imprenditori e istituzioni di provare a giocare la scommessa con noi, altrimenti rischiamo che giornate importanti come queste rimangano solamente sulla carta e sulle parole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.